Siamo alla S&S Telefonia con un brano di Sanremo di quest'anno, mi pare ancora di un ragazzo giovane, il Mago. Salve, tutto bene in famiglia? 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 abbiamo tutto il nostro interesse va come va, va come va, come va vale neanche se il male va come va, va come va, come va come va, chi tu può far mancare però il bicchiere e mezzo vieno un bicchiere di un viaggio e lui svanisce il mio sorriso come il farmaco bravo, grande guardate, Ari Svan Ari Svan, sapete quando prego, puoi fare anche pulizia? e questi due li faccio qua per i tieni per i tieni per i tieni per i tieni che bene in vado in vado